Benvenuti in questo nuovissimo video qui sul mio secondo canale in cui parliamo di blockchain gaming Il gaming in cui giochiamo ad un titolo, ad un videogioco, ma ci guadagniamo pure Ci guadagniamo monete, criptovalute, che hanno un valore nella vita reale Quindi parliamo di soldi veri Se mi avete seguito attentamente qui sul mio secondo canale avrete visto che ho parlato di Mavia Il Clash of Clans su blockchain E se non sapete che cos'è un game su blockchain Vi consiglio di guardare i miei video precedenti Non sono tanti ed aiuta davvero a capire un attimo questo mondo che in Italia è ancora nuovo Ma voglio che siete i primi un po' a capirci qualcosa Immaginate Clash of Clans dove in realtà se vincete gli attacchi e se vincete anche le difese Potete guadagnarci dei soldi reali E per essere più corretti direi delle criptovalute Una moneta del gioco, ok? Che ha un valore, come dicevo in inizio video, nella vita reale in soldi Vi ho già parlato di Mavia in un video qualche mese fa qui sul canale E oggi finalmente riprendo il discorso sempre di Mavia, questo Clash of Clans su blockchain Perché sembra che finalmente siano ritornati operativi Parlo del team di sviluppo Rispetto all'ultima volta ci sono infatti delle modifiche al sito ufficiale mavia.com Che è questo gioco su blockchain AAA E se avete già visto il video precedente sapete di cosa parlo Se invece è la prima volta che sentite parlare di questo gioco Guardate che figata Costruisci la tua base e difenditi dagli nemici Ok? Delle attacchi dei nemici E qui notate chiaramente uno screenshot del gioco Che vi fa ricordare ovviamente cosa se non il titolo di Supercell Che è avuto sempre successo tuttora Ragazzi andiamo avanti perché qui hanno cambiato tutto Il sito prima non era con questa grafica Sembrano migliorate E anche in realtà questi asset di gioco Questi personaggi che sono effettivamente le truppe Come sapete sono NFT Quindi se noi abbiamo questo barbaro a livello 1 A livello X È di nostra proprietà Questo perché? Perché è scritto sulla blockchain Sulla blockchain questo registro globale Certifica che noi abbiamo un oggetto in un videogioco Che possiamo rivendere Ecco perché gli NFT che rivendiamo ci possono fare guadagnare Ok? Qui un altro screenshot Con veicoli Ma ci saranno anche ovviamente truppe Che possiamo usare sia in terra sia in volo Come questo dirigibile qui che state vedendo Andiamo giù Anche qui lo screenshot cambia Sembra tipo un po' più futuristico rispetto agli screenshot che vi ho fatto vedere Due mesi fa circa qui sul canale Con il primo video su Mavia Guadagna rubi e altre risorse in gioco Ecco rubi ad esempio Si ottengono vincendo le battaglie Sia in difesa che in attacco E questo rubi è la moneta del gioco Questo significa che questa moneta Se noi la guadagniamo La guadagniamo in gioco Ok? Ha un valore Può valere 5 centesimi Un rubi può valere Un dollaro Insomma È proprio qui che si va a creare L'ecosistema Di questi giochi qua Che si chiamano Play and earn Gioca e guadagna Quindi abbiamo ovviamente in mezzo le criptovalute Ma già lo sapete Visto che da un po' mi seguite ormai su questo canale Migliora la tua base Migliora il tuo eroe E anche gli NFT statue Ovvero le tue statue NFT Quindi le statue che abbiamo avuto ad esempio Su Clash of Clans Fate finta la statua quella grigia Del pecca Era semplicemente una decorazione del villaggio Come sapete Qui ragazzi le statue hanno un valore Perché se io ho la statua fighissima Del gorilla super raro E ce l'ho nel mio villaggio Quello ragazzi È un NFT È un oggetto che posso vendere A te che mi stai guardando questo video Mi dai 50 dollari Ti vendo la statua NFT Perché c'ha un valore E più è rara E più ha un valore Ma ragazzi è molto di più Abbiamo parlato già Nello scorso video Del fatto di poter affittare Il mio villaggio Che anche questo È un NFT A persone Quindi io ti presto Il mio villaggio Con le mie truppe Ci giochi Ti do la percentuale Dei guadagni Se riesci a fare gli attacchi E vincerli E andiamo avanti così Ma ne parleremo In un prossimo video Ma oggi raga L'importante è farvi vedere Un'altra cosa Sul twitter di mavia Finalmente Dopo un paio di mesi Di silenzio Arrivano con questo tweet Guardate cosa dice L'attesa è finita Date un primo sguardo Date una prima occhiata Al gameplay Di heroes of mavia Domani 30 settembre In realtà è oggi Quindi Stanotte All'una di notte Finalmente Vedremo il gameplay Un piccolo gameplay ufficiale Di mavia First look 7 pm est Sono l'una di notte Di oggi Quindi ragazzi L'una dell'1 ottobre Luna di notte Ok purtroppo così È il cambio orario Finalmente Io raga Come sapete In questo gioco C'ho un villaggio Raro Ok Che inizialmente Aveva un valore Di circa 3000 dollari E l'ho comprato A 1000 Ok 3 volte di più Quindi ragazzi Preparatevi Perché parleremo Di questo Proprio domani Vi porterò il video In cui vi faccio vedere Tutta questa roba qua Sul sito ufficiale Poi trovate tutto Per mintare Ma ovviamente È già tutto sold out Da mesi e mesi e mesi Quindi fatto in tempo Ma c'è anche una roba Tipo chiamata Alleanze Hanno messo le gilde Ragazzi Hanno messo le alleanze Su Su Ires of Magia Che sono i clan Di Clash of Clans Già stanno cominciando A pensare a fare sta roba Anzi Tutta l'ha già fatto Quindi Figata Aprirò una gilda mia Sicuramente Fatemi sapere Se questo titolo Può interessarvi Se voi Che siete già entrati In il mondo Play and earn Investireste mai In un gioco simile Se non avete mai Investito in un gioco Blockchain Potreste effettivamente Pensarci Ovviamente Non sono consigli finanziari State sempre attenti A quello che fate Online Soprattutto in questo mondo Che è pieno di scam E altro Mi raccomando Non sono mai consigli finanziari Quelli che vi do Nei miei video Fate le vostre ricerche Io le sto facendo E mavia Mi sembra un titolo Veramente incredibile Anche perché C'ho dei partner dietro Che sono giganti Tra cui mi sembra anche Binance stesso L'exchange Ripeto Se non sapete Cosa è un blockchain gaming Vi sembra un po' di Se avete difficoltà A capire Di cosa sto parlando Guardatevi i video precedenti Ok O anche Tokeninja.io Link in descrizione È l'accademia Gratuita Che ho fondato In cui vi do le basi Su tutto Veramente in modo semplice Grazie per la visione Ci vediamo quindi domani Vediamo questo gameplay insieme In un video domani Ciao